Grazie Soppa, soppa Va bene così? Sono pezzettini che vanno cotti non tanto Sono da dadi Spero domani A che ora inizi domani? Ah, a 9, a 10 perché fino alla 1 non mangiamo E' un attrezzo Dio sera? Ah, prima di tutto Grazie Grazie No, no 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 Troppo sottile Faccio su E Attenzione I 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 Grazie a tutti Grazie 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 Guarda che roba Pazzesca Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.